Benvenuti a Rocky Springs, futura sede della comunità più ecologica mai esistita E così abbatterete tutta la foresta Sì, ma la sostituiamo con un centro commerciale che ricopia la foresta vera Questa è l'occasione per fare qualcosa per la nostra famiglia e per l'ambiente Mi spieghi come può far bene all'ambiente abbattere la foresta? L'unico ostacolo a questo progetto sono gli abitanti Non potete scappare Ok, soldato, al mio segnale saliamo su quel corruzzo Non potete nascondervi Gli animali vogliono attaccarmi Questa è foglia pura Stai zitto! Non potete sfuggire alla loro vendetta Tutto bene? State costruendo su una riserva naturale E la natura si è ribellata Brandon Fraser Hai una famiglia Hai fatto tutto questo per proteggerli Pucci Pucci, vieni Puzzole alla riscossa Tesoro, sei lì dentro? Non ti preoccupare, ti portiamo subito giù È meglio se vi coprite gli occhi Consigliato da K2